buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video allora oggi andiamo a vedere questa valigetta che si chiama dream the suitcase con dentro tutti questi trucchi più tre anni e 21 pezzi qui è uguale andiamo subito ad aprirlo e togliamo qua via e c'è questa valigetta con scritto fashion andiamo ad aprirla ok e ok è da sistemare allora la sistemo e poi ci rivediamo qui siete pronti 1 2 3 via tata allora questo è tutto il contenuto della nostra valigetta e adesso ve la mostro da più vicino ho messo anche i vari adesivi quindi qui c'è questa spazzolina farfallina molto carina poi qui abbiamo il phon con dentro la ventola come solo adesivo fatto così molto carino poi abbiamo il profumo con una fatina disegnata poi abbiamo questo che si apre non so che cosa sia sembra tipo dei glitter boh non ne ho idea poi qui abbiamo un altro profumo con questa boccetta qua non vuole stare a posto non vuole proprio rimanere qua poi abbiamo tre mollettine e questa un'altra mollettina 4 abbiamo il pettine il pennellino per truccarsi qui qui abbiamo la palettina con gli ombretti che si apre se riesco ok la posso fare ecco qui con il pennellino che si stacca e qui gli ombretti e anche qui c'è su questa fatina poi abbiamo il rossetto e per finire lo smalto che anche questo qui si toglie e c'è il pennellino e poi qua c'è anche uno specchio ciao mi si vede ciao e niente questo era tutto il kit dei trucchi per fortuna sono finti diciamo anche e niente secondo me è un bel giochino per le bambine e soprattutto le mamme sono ancora più contente che non si sporcano soprattutto e quindi niente io ve lo consiglio ovviamente questo è stato un regalo quindi non vi so dire quanto costa di preciso ma penso su 15 euro il prezzo in qualsiasi centro commerciale quindi ok e niente io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile ovviamente se è così lasciate tanti like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video io vi mando un bacio un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao